Questo è Wenderland Ah, amici! Oggi farò degli scherzi telefonici devastanti Perché sono andato a prendere le voci originali del trailer di Macio Cappatonda Sì, la terra dei morti contribuenti La terra dei morti contribuenti La cosa che mi fa più ridere è quando Macio grida Nooooooo Andiamo con Wenderland vs Macio Cappatonda Ma perché? Pronto? Pronto? Sì? Mi dica No, pronte lei, io ho sentito suonare e ho risposto Sono Eddie Larva Chi è che parla? Sono Eddie Larva Lo so io Lo sa che oggi mi hanno assunto È il giorno più felice della mia vita mia Sì, ma chi è lei, scusi? Chi sono? Sono Eddie Larva E allora? Come? Sono Eddie Larva Sì, ma qua è Perrone, non so chi cerca lei No! Nooo! 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 Risponde la segreteria telefonica di Bestemmia Man Nooo! In questo momento sta bestemmiando Lasci pure un messaggio o richiami più tardi Nooo! Nooo! Chi sei malato? Mi lasci stare, la prego! Ah? Mi lasci stare, la prego! Cicchio! Vedo la gente cadavera! Ah? Vedo la gente cadavera! Ma anche se vieni sciù? Nooo! Nooo! Ho visto una cosa che mi ha scioccato! Ah? Sono vecchi! Sono morti! E sono ovunque! Chi c'è? Nooo! Nooo! Chi c'è? Chi sono? Chi c'è? Sono Eddie Larva Chi c'è? Sono Eddie Larva E chi è? Lo sa che oggi mi hanno assunto Ho visto una cosa che mi ha scioccato! E ma anche se è canato? Mi lasci stare! Lei è uno zombie! Quasi! Ma non la maglia! Aiuto! Ma cosa vuole? Chi c'è? Chiuda lei il telefono! Dove? Chiudano! Oh ma anche se è? Sono Eddie Larva Sono vecchi! Sono morti! Non c'è qui tardi ciò! Nooo! Cosa? Pronto? Pronto! Pronto! Chi parla? Sono Eddie Larva Eh? Sono Eddie Larva Di Larva? Pronto! Sono Eddie Larva E che è quello nostro? Lo sa che oggi mi hanno assunto E allora? Finalmente mi potrò comprare la panda La panda? Nooo! Ah no! Ho visto una cosa che mi ha scioccato! Ma va! Vedo la gente cadavera! Vedo la gente cadavera! Allora! Mi cazzo! Vedo la gente cadavera! Quattro! Nooo! 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 Mi lasci stare! La prego! Chiudo! sei pazzo pronto? sono Eddie Larva stronzo no è stronzo che vuoi? lo sa che oggi mi hanno assunto vaffanculo a mamma e ha detto padre quanto gliene hai sono Eddie Larva no vedo la gente cadavra ma che cazzo vuoi? mi lasci stare lei è uno zombie no ancora? pronto che sono? sono Eddie Larva come andrà a finire? scoprilo domani nello Zoo di 105